Ciao Lasana, ciao, venuto Giulietta di Fugge, già arrivato, sì, quando? 85 domenica, sono Lasana, sono arrivato in Italia nel 2014, ho lasciato il mio paese d'origine, Mali, ho passato a Brukina Faso, dopo Brukina Faso, Niger, dopo Niger, Algeria, ma il viaggio è pesante, perché ho fatto il viaggio al deserto, senza acqua, senza cibo, ho fatto il viaggio con il frigone, tante gente morte al deserto, ho passato in Libia pochi giorni, con i libiani hanno obbligato a noi di salire sul barco, ho passato al mare, prima volta, ho avuto paura, mare, c'è buio, perché il primo viaggio è passato il mare, sono venuto in Italia, in Lampedusa, sempre nel 2014, ho venuto in Livorno, dopo in Livorno, Andrea, sto bene, sto lavorando, ho avuto una casa, grazie a Dio, e comunità immigrante libera. Io vengo dal Pakistan, io chiamo Muhammad Akbar, io prima ho entrato in Iran, dopo Turchia, dopo Grecia, dopo Serbia, Slovakia, Astia, Germania, dopo ho entrato in Italia nel 2015, dicembre. Dopo ho cambiato, ho cambiato, pulmo a pedi, tanto difficile, non facile, perché tanta gente, sempre fame, malattia, adesso sta andando, c'è un lavoro molto grosso, anche chissà puri, adesso è tutto a posto, adesso sta a casa a mangiare, tranquillo. Ciao, ciao, ciao. I ragazzi fanno parte del progetto SPRAR, il progetto SPRAR è un progetto di seconda accoglienza, che è gestito dalla comunità Migrantes Liberi. L'obiettivo di questo progetto è innanzitutto un supporto da un punto di vista psicologico e sociale, in quanto questi ragazzi sono vulnerabili, hanno subito abusi fisici, psicologici, maltrattamenti, sevizie, ed è per questo che noi li supportiamo, sia da un punto di vista sociale che psicologico. Un altro obiettivo importante nel nostro progetto è l'inserimento sociolaborativo. L'obiettivo finale è l'autonomia abitativa. Chi è? Chi è? Sì sì, la sana vedi io, porta. Ehi, la sana, buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Akbar, come stai? Io bene. E tutto a posto? Tutto a posto, a te? Come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Oh, cosa fai? Sto facendo farina. Che cosa? Farina. Farina e cosa? Pane? Sì, pane di paipistano. Ah, quello è il tipo di magliare di pasta. Ah, ho capito. Oh ragazzi, che bella casa. È bella. Sì sì. Non sono mai bella. Ti piaci? Siete sistemati proprio bene. Sì sì. E voi come state? Va bene. Sicuramente è importante guardare la faccia dell'altro, che l'altro è lo straniero, il migrante o chi abita vicino a casa mia, perché fin quando non guardo il volto dell'altro non mi accorgerò mai delle sue emozioni, delle sue sofferenze, delle sue tragedie, dei suoi traumi, delle sue violenze. Solo così l'umanità potrà ritrovarsi guardandosi negli occhi, ma soprattutto guardando il volto. Il volto è l'espressione del nostro cuore. Il volto è l'espressione dell'umanità che si ritrova insieme.